Ciao a tutti cari ragazzi e bentornati, questo è un video registrato a 1080p credo a 60fps dal nuovo Xiaomi Mi i8 arrivato mi proprio oggi in super anteprima grazie al Multistore del Zaza e voglio farvi apprezzare la qualità video ma soprattutto la stabilizzazione di questo Xiaomi perché se ha display sembra davvero tremare tanto, poi quando andiamo a far play e guardiamo il video è davvero impressionante adesso lo smartphone è in una mano sola, io sto tenendo dall'altra parte il mio cagnolino come vedete ma guardate la stabilizzazione è davvero davvero impressionante adesso mi avvicino a questa pianta così vi faccio vedere come si comporta anche con la messa a fuoco in mezzo a tutte queste foglie perché anche in questo mi ha fino ad ora sorpreso, non ha mai sbagliato una volta il fuoco guardate qui, guardate quanto è morbido il passaggio del fuoco molto molto bene, ovviamente c'è da capire anche come si comporta con l'audio perché fino ad ora Xiaomi sotto questo profilo non ha mai convinto tantissimo speriamo sia migliorato, ovviamente ragazzi non posso farvi un controsole sono le 9 di sera e adesso me ne torno a casa beh, per oggi è tutto, vi saluto io, vi saluto anche la mia cagnolina lana che ha una voglia matta di scapparmi dal guinzaglio e mettersi a correre ma qui poi non mi torno più a casa, se la lascio andare in mezzo a tutti questi campi vi auguro un buon weekend e ci vediamo nei prossimi giorni ovviamente per la recensione di OnePlus 6 ciao ragazzi, da Xiaomi Mi 8 mettete un bel like e ditemi come si sente l'audio di questo smartphone ciao a tutti